Sulla emotività del momento è venuta fuori la dimissione e ripeto e ribadisco che probabilmente al suo posto io avrei fatto altrettanto. Detto questo, ho avuto solo conferma di un pensiero che già avevo. Conosco la passione che Lello ha per l'ischia e conosco soprattutto quanto tiene alla parola e quanto tiene al rispetto degli impegni presi. Non è mai venuto meno e non verrà meno per il futuro, quindi io sono convinto che quest'anno sarà comunque un anno importante per l'ischia dove verranno mantenuti gli impegni economici e dove sono sicuro che anche il campo dovrà dare le sue risposte. Sono ottimista quanto lui ed era l'intervento che ho fatto all'inizio prima ancora di ascoltarlo. Sono contento che sia anche chiarito un attimo la questione dello stadio perché ultimamente poi qui a Ischia siamo bravi a fare sempre concetture particolari. Non è mai stato negato questo intervento dall'amministrazione comunale alla società perché io ritengo, ancor chiaro inizialmente c'erano state idee, quantomeno delle critiche o delle preoccupazioni, io ritengo che quando si investe su un...